Se trovo una skin della season 1, il video finisce Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore porto, come vedete a schermo Accettate Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzuoli, quindi, vediamo un po' Io ho avuto molta sfortuna Sarà il terzo o quarto tentativo Negli ultimi tre tentativi Ho praticamente fisso Trovato gente della season 1 E' quasi all'inizio del game Quindi facciamo l'ultimo tentativo Come va va, vediamo cosa succede Ok, sono fiducioso che però stavolta vada meglio Ok, vabbè, andiamo Tra l'altro, mi hanno detto in live Che in lobby abbiamo trovato già uno season 1 Però finché il lobby non è un problema L'unico problema, fondamentalmente È che ce lo possiamo ritrovare in fight Dato che era nella lobby preparatoria Ora sta in game Quindi la cosa mi preoccupa un po' Però Speriamo di avere un po' di fortuna Diciamo così Sta arrivando qualcuno Sta arrivando qualcuno Attenzione Uh, fra Un po' di tracking brutto che ho avuto Ma vabbè, nessun problema Sta arrivando anche una macchina Stiamo attenti, regà, su di me Una bella rainbow fiammeggiante rossa Alembo Avast e Furious E fermate Che season è? Non credo sia season 1 Ma questa la vedo season 2 Anzi, sincero Decisamente Non ho finito i proiettili Ah, nel caricatore li avevo finiti Ok Ah, mamma mia come l'ho giocata male Meno male che stavo pieno di vita Meno male che sono partito con 200 Mamma mia ragazzi Che problema No ragazzi, ovviamente i noskin non contano Perché questi noskin sono comunque Capitolo 2, season 1 Noi stiamo cercando esclusivamente skin Capitolo 1, season 1 Quindi andiamo tranquilli Ok Solo capitolo 1, season 1 Un po' di gente qua ci sta sempre a Pleasant Eh, invece pensavo che fosse un po' più deserta Invece Invece no Vado un attimo a ricaricare la lembo Ah no, ma c'è la ruota distrutta No, allora no No, no, scherzavo Rip lembo Sembrava di aver sentito un nemico Ah no, ci sta infatti Aspettate, devo capire dove ha sparato Prego, prego Eh, prego Abbiamo fatto opera di ristrutturazione Prego, prego Per coca è un euro A parte che questo tizio era un bot Perché si è girato di bot appena sono entrato Proprio da bot Vabbè Mi servono un po' di pozze però, eh Io in giro senza scudo Non ci vado né mo' né mai Quindi alla ricerca subito di cure Subito Ok Nemico lì Non entrare Eh, alla stessa skin Controllo per sicurezza Controllo per sicurezza Scanzo di equivoci Poi la gente nei commenti dice Che ho imbrogliato Fatemi controllare un attimino Oh, perché non si ferma? Oh, fermati Ma cosa spari? Ok, ragazzi Questo era quello del Eh, del Come si dice? Della No Uh, fra, fra, fra Calmo, 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 calmo Era quello del pacchetto Era uno dei primissimi pacchetti usciti Però non credo fosse season 1 quello Credo fosse season 4 Perché mi pare che i pacchetti Li hanno cominciato a mettere in season 4 60, colpito C'è un botto di scudo Facciamoci il giro Colpito, 60 Dai No Sta arrivando pure un'altra auto Dai Oh Oh, quanta vita c'ha E basta Aspettila Madonna, quanto meno allevata Uff, rischiosissimo ragazzi Sto rischiando Sto rischiando No, questo sicuramente non era season 1 Questo ne sono certo Perché skin così complicate Così Eh, belle Non le facevano in season 1 Cioè, oddio, non belle Skin così esatto Spavillanti Piene di brillantini Sarà tutto vivo Fammi entrare Non da questo lato però Aspettila, questa che skin è? Uh Raga, che season è? Che season è questo tipo? Questo è troppo semplice Per essere di qualche season alta Controllatelo Non posso più aspettare ragazzi Non posso più aspettare Dovevo eliminarlo Chiedo un attimo alla chat che Raga, che season era? Quella è di salve il mondo E... Come vale? Vale, non vale? Season 2 dicono? Season 3? Vabbè, comunque non era season 1 Dicono che non era di season 1 Ok, a posto No, ok, perfetto Ok, però quella Ci poteva essere di season 1 Eh, quella ci poteva essere Perché è una skin molto semplice Meno male Questa è di salva il mondo Season 3 Ok, a posto A posto ragazzoli È divertente il fatto Che stiamo collaborando Tutti quanti È molto figo Che stiamo collaborando Tutti quanti Per cercare di Riuscire in questo obiettivo Mamma mia Che figata Ok Ah, finalmente una pozza grande Ok, a posto Andiamo un po' Dai ragazzi Oh, aspettate No, è partito È già partito No, potevo farlo cadere No Invece no Quanto godo Quanto godo Quanto godo Questo non potremo mai sapere Ragazzi di che season era Perché a me i replay Non si salvano Quindi non possiamo andare a vedere Diciamo che questo Non lo era E no Va bene così Fidiamoci sulla parola Di Porto the Game È da dietro Però mi è arrivata questa Provo un attimo ad avvicinarmi Perché a questa distanza Raga Non me lo posso permettere Andiamo un po' Lo faccio passare avanti È Aura? Oh È Aura? Sì Ok A posto Aura andiamo tranquilli Aura non è Non è season 1 Dicono che è season 8 Quindi Ci fidiamo E andiamo A posto Apriamoci quest'altro Chiam Camion dai Questo forse ha un po' Più di benzina Anche se di poco Credo Andiamo dai Cioè Oh tizio davanti Lo riesco a buttare sotto Ci provo? No questo è Noskin però Tranquilli Ok È a posto Come se non fosse successo niente Fra Come se non fosse successo niente Allora Apriamoci le macchine Dai Non perdiamoci d'animo Non ho il rampino Però comunque voglio avere un po' di mobility E le macchine in questo caso Ci possono venire molto in aiuto Andiamo all'autorità Voglio rischiare Controllatina veloce Altro medikit Non ci interessa Pozza grande Corro Mi lancio subito a prenderla Controlliamo nel bunker Quanto vado a fare questa cosa È sempre divertentissima Oh Questo che è season Ah no no Questo è L'agente elite Season 3 O 4 Season 3 Sì sì Season 3 Agente elite Season 3 Questa la so Ok easy Sembra che sto a fare un esame Questa la so Questa non lo so Che cringe veramente Fare un esame di Fortnite Sarebbe il cringe più assoluto Ok A posto Ci siamo andati un po' a guadagnare qui Ottimo Non sono riuscito a vedere la skin Non credo neanche voi Sinceramente C'è rampino questo No Non è season 1 Non credo proprio Sinceramente Credo proprio di no La capolista Signori Salutami sta capolista Frate Porto the gamer Porto the gamer E il tracking È un pack È un pack Ok A posto Tranquilli allora Andiamo più easy Immagino Ah una bella lembo Sarei tentato di Amma Ti buca la ruota Frate mi spiace Eh con una ruota Bucata Non andrei lontano Te lo dico per esperienza Guarda Con due ruote bucate Non vai proprio da nessuna parte Sta sparando qualcun altro Però io devo farvi vedere Di che season è È il mostro di mare No ok È season 10 È season 10 È il mostro di Il demogorgone È il demogorgone Quindi andiamo tranquilli È il demogorgone Ok E muori Mamma mia Andiamocene Subito Stiamo attirando troppa gente Troppi occhi addosso E infatti Questo è un problema Raga È il fatto che mi devo avvicinare A ogni nemico Per vedere di che season è Ok Questo è C'è Questa season Passa battaglia di questa season Quindi andiamo tranquilli Bella godo Attenzione Mi devo necessariamente avvicinare Bright bomber Bright bomber No Di nuovo Di nuovo Bright bomber Grazie a tutti